La possibilità di lavorare insieme su un argomento come la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale è sicuramente un'opportunità da cogliere al volo, perché arrivando anche noi culturalmente da un mondo multidisciplinare per definizione come quello della valutazione delle tecnologie è evidente che l'approccio è vincente anche in altri ambiti. E su questo, in questo momento, c'è veramente bisogno per poter dare un governo al sistema ed evitare delle derive che poi potrebbero risultare devastanti per il sistema sanitario nel suo complesso ma prima ancora per la riuscita di un progetto che ha una logica perché ormai i dati sono la base di qualunque decisione e di qualunque possibilità di crescita di un sistema.